Per gli esperti è il più grande attacco ai computer di tutti i tempi a sferrarlo una rete di pirati informatici dell'est Europa. Darne la notizia il Washington Post e tutti i particolari nel servizio di Mila Cataldo. I numeri di quello che sembra a pieno titolo il crimine di pirateria informatica del secolo destano sconcerto. Oltre 75.000 computer sotto controllo, violati i server di almeno 2.500 aziende in 196 paesi. Nel Mirino soprattutto Stati Uniti, Messico, Arabia Saudita, Egitto e Turchia. Nel raggio d'azione degli hacker sono finiti persino i sistemi di 10 agenzie governative statunitensi. È difficile escludere che ci possa essere un'isola felice in cui l'aggressione non ha avuto luogo. Tutti se ne accorgeranno dopo, troppo tardi, quando cominceranno i veri problemi. Tutto ha inizio alla fine del 2008, ma l'intrusione dei pirati informatici è stata scoperta soltanto il mese scorso, da una ditta della Virginia. I gnari dipendenti di migliaia di aziende, da colossi del settore tecnologico a grandi case farmaceutiche, a giganti della produzione cinematografica come la Paramount Picture, venivano intercettati e controllati grazie all'azione di un software scaricato involontariamente da siti gestiti dagli stessi hacker, oppure inviato attraverso messaggi e-mail infetti. E-mail, dati aziendali, carte di credito, tutto veniva passato al setaccio con un complesso sistema di 20 server e computer, tutti interconnessi, gestiti da una centrale in Germania. Chi è entrato all'interno dei sistemi informatici può aver acquisito informazioni e soprattutto conoscenze per poter accedere in un secondo tempo e compiere magari un gesto epocale.